Oggi il calcio piange, oggi il calcio perde un grandissimo pezzo della sua storia. Grazie Diego per tutto quello che hai fatto, per questo sport che noi amiamo così tanto. Il calcio senza di te non sarebbe il calcio che conosciamo oggi, di questo sono sicuro. Io vorrei condividere una mia piccola impressione con voi da tedesco, da italo-tedesco, mi piace molto viaggiare in Italia, però sono cresciuto in Germania. Quando sono viaggiato la prima volta a Napoli, mi sono arrivate le lacrime nei occhi ragazzi, avevo la pelle d'oca. Quando arrivi in una città già super caratteristica, molto molto diversa dal nord, dalla Germania, e vedi che un giocatore che ci ha giocato 6-7 anni in questa terra, ha lasciato così il segno. Cioè vai in giro e c'è tappertutto Maradona. Capisci veramente che lui è andato oltre il calcio, noi lo diciamo sempre, il calcio è così bello, perché riusciamo anche a dimenticare determinate cose, la vita spesso è dura, e quando viviamo il calcio, la bellezza del calcio, di questo gioco, spesso possiamo dimenticare tutto. Ed è veramente impressionante vedere che un uomo è riuscito, e purtroppo adesso è così ragazzi, però è veramente così, che lui riuscirà a sopravvivere se stesso. Sono assolutamente sicuro, perché Maradona è immortale. Immortale per chi ama il calcio. Continuerà a vivere nei quartieri spagnoli a Napoli, nei cuori argentini, nei cuori di tutti quelli che amano il calcio. E non dimenticherò mai questa impressione quando sono arrivato a Napoli, da ragazzo piccolo, ripeto, tedesco, che era la prima volta che venivo a Napoli, e vedevo queste immagini dappertutto. Sono un quarto italiano, mio nonno è napoletano, me lo ricordo che praticamente ovunque andavi, con ovunque persona, potevi sempre parlare di lui. Soprattutto persone che erano un po' più anziane. Quando facevi uscire il discorso Maradona, la persona più povera in assoluto, sulla strada, in queste stradine piccole così, non importa, sorrideva. Sorrideva. E questo mi ha fatto emozionare. Questo mi ha fatto veramente emozionare. Ragazzi, siamo tutti quanti, purtroppo, di passaggio. E Maradona però è riuscito a sopravvivere. Riuscirà a sopravvivere se stesso, a vivere veramente nei cuori di tante, 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 tante persone. Perciò io purtroppo sono stato troppo piccolo per vedere al vivo Diego Maradona. Ritengo molto fortunato chi l'ha visto veramente giocare al vivo. Posso dire che io mi sono studiato, ho vissuto, ho guardato i suoi highlights giorno e notte. Cioè c'erano dei periodi, poi avevo anche i miei periodi per altri campioni come Ronaldo, il Fenomeno, quando era in forma, Pelé o altri giocatori. Però adesso oggi ovviamente diamo solo spazio a Maradona. Comunque mi piace studiare questi campioni e mi arrivava la pelle d'oca. Mi ricordo un video, ho un'impressione, perché ovviamente 20 anni fa, dove io ancora non conoscevo molto bene il calcio e mio nonno, da cui nasce la passione per il calcio, mi ha fatto vedere, mi pare era in tv, c'era in tv, ancora non era il periodo dei cellulari, così ha detto, Gianno, vieni un attimino, guarda qua. E facevano vedere Maradona, non mi ricordo più bene cosa faceva, se aveva una pallina piccolissima, oppure era una banana, una scarpa, non lo so, ma stava palleggiando con qualcosa che non aveva la forma di un pallone grande, e lo faceva con una leggerezza, con una capacità tecnica incredibile, che tu dicevi veramente, questo è disumano, cioè questo qui prende, non so, potrebbe prendere un portafoglio e si potrebbe mettere a palleggiare, cioè, un talento arrivato veramente da Dio, cioè una cosa incredibile, e da lì forse veramente non parte il mio tifo, questo no, sapete che sono interista, questo adesso in questo video non è importante, veramente non importa, perciò da lì non parte assolutamente il mio tifo, per la mia fede calcistica, ma forse, se ricordo bene, da lì parte l'amore per il calcio, perché da bambino sono stato impressionato, quando in tv era una piccola scena, vedevo Maradona, mi pare, prima di un campionato del mondo, qualcosa che stava lì, palleggiando, che dicevo, questo è disomano, ma quanto è bello, quanto è bello vedere una cosa del genere, e qui non, ripeto, non importa la nazionalità, la fede calcistica, è una bellezza incredibile, perciò ripeto, con Maradona, genio, rivoluzionario, muore, muore il calcio, muore veramente una parte del calcio, maledetto anno 2020, triste ragazzi, notizia veramente super triste, che vi devo dire, riposa in pace, campione, insegna ai angeli, come giocare a calcio, triste, giornata, notizia veramente triste, ragazzi, vi mando un forte abbraccio, vi voglio bene, sempre viva il calcio, sempre viva Maradona, vi voglio bene, Grazie.